Minchia che palle, adesso queste teste di cazzo vogliono pure il video su Call of Dragon, ma andate a fan... Eh, cari amici, cari amici, non mi ero accorto di essere in live, tanti cari saluti dall'Egregio Maestro, Maestro con l'M maiuscolo, altrimenti mi offendo, Capo Bastone, il King di Rise of Kingdoms Italia. Allora, prima che apriate questo video, stralluzzandovi il pisello dalla felicità, Oddio sì, Capo prova il gioco, oh sì, oh sì, e sburrando sui fazzoletti della Scottex, Ormai i marci che sono lì imputriditi dallo sperma essiccato, vi dico subito che no, non giocherò e non proverò Call of Dragons, Lo so che adesso starete in lacrime, sì anche tu, anche tu, tu che sei seduto sulla sedia che mi stai guardando con la sprite in mano, Con la cannuccia che fai, come tua sorella quando succhi i cazzi, così in bagno degli obesi dalla scuola. No bello, non lo provo, non lo provo e non lo provo, e te lo ripeto un'altra volta, non lo provo e non lo proverò. E qualcuno mi dirà, ma come Capo, ma è stato fatto dagli stessi creatori di Rise of Kingdoms, magari ti potrebbe piacere, Ed è proprio lì il problema, magari mi potrebbe piacere, è questo il problema, ma lasciate che vi spieghi. Allora, Rise of Kingdoms è uno dei giochi, uno dei pochi giochi che riesco a digerire, a deglutire facilmente, È uno dei pochi giochi che mi tiene incollato da tre anni, il gioco più lungo che mi ha tenuto incollato è stato Minecraft unito a GTA V, Quindi già avete capito che i giochi che sono riusciti a, diciamo, entrarmi nel cervello e farmi venire la voglia di giocare, così a lungo, sono pochi. Adesso attualmente sto giocando anche a Project Zomboid, che probabilmente qualche giorno inizierò una serie a parte, A parte ovviamente Rise of Kingdoms, questo è un altro dettaglio, chiudiamo la parentesi. E quindi questo gioco è uno dei miei preferiti, ci faccio le live tutte le sere, bla 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 bla. Il punto qual è? È che è uscito Call of Dragons dagli stessi creatori di Rise of Kingdoms, È un gioco che rispecchia fondamentalmente le basi di Rise, quindi ognuno ha il proprio villaggio, C'ha le proprie truppe da far uscire, ci sono mostri, eccetera eccetera, Con la piccola differenza che, ovviamente, è sviluppato meglio graficamente, ma con meglio si intende un po' più sul 3D, vero. È sviluppato a secondo di un genere a tema fantasy, quindi al posto dei barbari ci sono gli elfi, I golem di merda, ci sono i lupi, ci sono gli orsi giganti, ci sono le streghe, i maghi, tutte quelle robe lì, Ci sono i pensionati con la minima, i ladri, i fuffaguru, le teste di cazzo, i rom che rubano in metropolitana, Ci sono tutte queste figure mistiche, no? Ecco, e allora qual è il problema però fondamentale della questione? Non tanto che è fantasy, che io lo posso anche accettare, Il problema è che è un Rise 2.0, è un Rock 2.0 fantasy, questo cosa significa? Voi lo sapete, soprattutto chi gioca seriamente, non quelli che si collegano una volta a settimana, Oh bella zio, mi sono collegato a Rock un giorno alla settimana, bella fra, Sono a 500.000 di potere al KVK17, è buono fra, ehi bro! Però, no, questa gente non ha capito come si gioca, questo è un gioco che richiede attenzione, Che richiede costanza tutti i giorni, cioè io ripeto sempre la frase che dice Zio Tino, Cioè, ogni giorno perso su Rock, per recuperarlo, servono 4-5 giorni di gioco intenso, Quindi vuol dire dalle 4-5-6 ore al giorno, quindi ogni giorno che perdete su Rise, Perdete premi, perdete eventi, perdete la possibilità di fare barbari, gemme, Perdete occasioni, quali bauli, cioè, perdete tutto, ok? Quindi, ragazzi, considerate che è un impegno, E Call of Dragons sarà un impegno ancora maggiore, perché Call of Dragons richiuderà e racchiuderà in sé tutte le dinamiche di Rock, Quindi ci saranno, e ci sono anzi, le Alleanze, ci sono i KVK, eh sì, belli di mamma, Ci sono anche i KVK con i Goblin, i Mostri, i Draghi e gli Elfi, Ci sono tutti i premi Alleanza, c'è da farmare, Allora, io mi chiedo una cosa, già abbiamo il nostro principale, Che è un disastro, perché è da gestire, il principale, c'è sempre roba da fare, Cliccare, andare, seguire, guardate, io apro adesso, Ci sono dei premi da riscuotere, che durano un giorno, Se io non mi collegassi per un giorno, avrei perso boccette, cibole, Guardate, guardate, proprio in diretta, un altro, un altro premio, oro, Quindi già è difficile prendere questo, Già è difficile occuparsi della farm, perché poi c'è anche la farm, Nel mio caso mi muzzo, nel caso di altri anche due, tre, quattro farm, Ma addirittura arriva gente che ne ha dieci, Voi immaginate mettermi su un gruppone, un altro gioco come Call of Dragons, Che ha le stesse dinamiche, dove bisogna, inoltre, reimparare tutto, Perché? Perché Call of Dragons non è identico a Rise, È simile, ma non è identico, l'aspetto base è quello, Castello, truppe, attacco, difendi, alleanza, KVK, Ma non è uguale, perché ci sono ad esempio, Gli orsi giganti, che bisogna usare una strategia, una tecnica delle unità, Non lo so, ci sono delle tipologie di mostri, Che ti danno una certa cassa, rispetto a una certa risorsa, Chi bisogna fare per primo, quale? C'è tutta la serie dei comandanti, perché ci sono anche lì comandanti con tanto di stelle, Esperienza, teste, c'è di tutto, c'è, c'è di tutto, E bisogna reimparare tutto, quindi, Chi è il Giulio Cesare di... Chi è il Giulio Cesare? Qual è? Quale mostro è il Giulio Cesare di Call of Dragons? Cioè, la rappresentazione di questo qui, di Giulio Cesare, L'inutilità più totale, a quale comandante corrisponde in Call of Dragons? E se io mi mettessi a maxare proprio quello? Cioè, bisogna reimparare tutto, fare tutto, Ragazzi, poi non vi dico una cosa, perché poi c'è un piccolo dettaglio, Immaginate due KVK in simultanea, Un mese e mezzo qui su Rise, E un mese e mezzo, se non di più, su Call of Dragons, Tutte e due, tutti i giorni, guerra di qui e guerra di là, Allora, aspetta, io dovevo attaccare il Goblin di là, Però, cioè, poi ti confondi, non capisci più un cazzo quali sono gli eventi, Li confondi, vedi i Goblin su Rise, Vedi Carlo Martello su Call of Dragons, Diventi un rincoglionito, ti si incrociano le dita come marotta, Tutto gli occhi, tutto! Non capisci più un cazzo, non capisci! Ma come faccio io a mettermi un altro peso del genere? Ma siete pazzi? Ma siete pazzi? Per quello che io non lo voglio provare, Non dico che fa schifo, Chiaramente non provandolo non posso dire, Sicuramente sarà all'80% anche godibile e bello, Ma io non me lo posso mettere sul groppone, Io devo gestire il mio, Mimuzzo, che è la mia farm, Gestire tutto il regno, Perché comunque bisogna stare attenti a quello che succede, Gestire un KVK che sta per iniziare, Tra 8 ore e 11 minuti, Entriamo ufficialmente nel pre-KVK con i predoni, Quindi alle 2 di notte scatta il reset, E quindi i predoni cominceranno a spuntare, Ma io come faccio a giocare a Call of Dragons e a questo? E poi cosa succede? Cosa succede? Succede che tu inizi a giocare un po' di là, E ovviamente la coperta è corta, E quindi tiri da una parte e scopri dall'altra, Quindi ogni minuto che passi di lì, È un minuto sprecato passato di qui, Soprattutto per chi ha poco tempo, Ogni minuto passato di qui è sprecato di lì, E che per imparare, Per fare, Io non ho voglia né tempo ragazzi, Ok? Non ho voglia né tempo, Poi qualcuno mi ha chiesto, Capo, ma facciamo finta che potessi avere tutte le conoscenze, Sia di Rise, Come già ho, Sia di Call of Dragons, Dove andresti? Ma io sinceramente, Guarda, Il fantasy non è che sia proprio il mio genere preferito, Quindi punterei su Rise of Kingdom sempre, Sempre e comunque, Su questo è ovvio, Anche avendo tutte le conoscenze e tutto, Anche un castello di là, Allo stesso potere, Sceglierei questo, Proprio perché mi piace di più avere i comandanti, Non dico sono tutti reali, Perché non tutti sono reali, Tipo Sarka ha inventato, Però mi piace di più avere i comandanti, Truppe, Cavalleria, Fanteria, Piuttosto che avere i Goblin, Il Draghetto, Il Mostro, Ehm, Mobunzu, Mozubu, Ehm, Di qua, Di lì, Che cazzo ne so, Satana, Belzebù, Melchiorre, Insomma, Capito, Giobbe Covatta, Io ho bisogno di truppe serie, Cioè, Fanteria, Arceria, Cavalleria, Assedio, E' più nel mio stile, Infatti, E' uno dei miei giochi preferiti, A parte, E' Progetto Zomboid, E' però rimanendo in tema, Ehm, Age of Empires 2, La Definitive Edition, Io il 3, Il 4 neanche me lo sono cagato, Di Age of Empires, Perché non mi interessa, Per me il 2 rimane, Rimarrà il più bel gioco, Mai fatto di strategia, Dell'età feudale, Il più bel gioco, Anche se, In Age of Empires, Arrivi anche all'imperiale, Comunque, In ogni caso, E' un gioco infinito, Con un editor, Spaventoso, Cioè, Ragazzi, Siamo, Questo è il mio territorio, Il mio campo, Ehm, E credo che questo, Rimarrà il mio campo, Il mio territorio, Quindi, Se voi volete giocare, A Call of Dragons, Fatelo, Giocateci, Fatemi sapere com'è, Ma non mi chiedete più, Call of Dragons, Vi ripeto, Non è per cattiveria, Ma è proprio perché, È un fattore, Primo di tempo, Secondo di voglia, Bisogna rimparare tutto, Terzo, Non si può gestire, Dei giochi del genere, Dove sei sempre online, E il tuo villaggio, È sempre, Quasi a rischio, Di attacco, Comunque, Devi sempre essere presente, In questo caso, Mi è tornato un farmer, Ad esempio, Io, Se fossi di là, Questo qui, Rimarrebbe a casa, A grattarsi le palle, Infatti, Adesso, A fine video, Lo rimando a farmare, Cioè, Capito qual è il senso, Non posso gestire, Due giochi, Di questo calibro, Perché sono due giochi, Identici, Mentre l'account, Switcho velocemente, Passo subito a Mimuzzo, Comunque, È una questione di 10 secondi, Di là dovrei, Chiudere, Riaprire, Poi non c'è neanche per PC, Credo, Questo non lo so, E quindi sarebbe ancora più difficile, Gestirlo, Perché dovrei usare Bluestack, Come usavo prima, Che lagga, È pesante, Insomma, Raga, È il solito discorso, Non lo posso provare, Non lo voglio provare, Non lo proverò mai, Quindi, Andiamo avanti, Con Rise, Se volete, Fate voi video, Mi dite, Capo, Ho fatto un video, Guarda se ti interessa, Io ve lo vengo anche a vedere, Però, Non spammate qua sotto, Sennò vi taglio il cazzo, Ve lo butto in bocca, Dico in privato, Mi dite, Guarda, Ho fatto il video, Vedi un attimo, Questa funzionalità, Di Call of Dragons, Vedi se ti piace, Magari ci possono saltare fuori, Delle idee, Che inseriranno, Poi anche il Rise, Però, Raga, Rise è più nel mio, Nel mio aspetto, Nel mio sentimento, Nella mia anima, Tanti like per Capo Bastone, Non mi chiedete più Call of Dragons, O quando me lo chiedete, Io vi indirizzo qui, A questo video, Così non mi spaccate più i coglioni, Tanti cari saluti, Ci becchiamo stasera in live, Come tutte le sere, Inizia il pre-KVK, 8 ore, 6 minuti e 40 secondi, Al godimento più totale, Saluti sibarittici e catafratti, Capo Bastone official, Vuol dire qualità,